Il caro che presentiamo quest'anno per i 150 anni è Pianeta Terra 2.0, è firmato da me e da mia figlia Valentina. E' un po' la ricerca di un nuovo mondo per le nuove generazioni. In questo momento molto complicato e difficile, vorremmo tutti abbandonare la nostra terra per trovarne una migliore. La scena è fatta in due atti. Il primo atto è rappresentato da questi Pierrot bambini che appunto rappresentano le nuove generazioni e devono per forza abbandonare la nostra città, Viareggio. E a un certo punto salgono su questa astronave che si mette in moto e ruota di 180 gradi. Davanti al carro c'è Ondina, sopra una terra ipotetica che guarda con un binocolo. E c'è dietro questo grande burlamacco che guida l'astronave insieme a tutte quelle che sono le migliori cose che abbiamo a Viareggio. Quindi il mare, la terra e l'aria.